Gli altri, chi si lo mangia? Aspetta, sopporto il rufo, per lo superi, guarda te. E' vacca. Sì, vada a prendere. Vado a prendere. Gli ha fatto una confezione a regalo. Qui c'è i zampini. I zampini. Poi c'è ancora i zampini. Però questi sono tagliati. Sì, sono tutti tagliati. Poi abbiamo il musino. Dove? Qui c'è la griglia per le costine. Sì. Qui ci sono le costine. Mi si incorsa ieri sera. Pochi. Qui abbiamo i musini. I musini. E qui c'è la pentola per l'investitura. Oh, l'investitura. Oh, basta perché se noi scioppiamo. Si scioppa il demore. Un pochè. Non c'è la pentola per l'investitura. Sì, è che cosa è la pentola per l'investitura? És' fraga. Oggi, è un pochè. Non c'è la pentola per l'investitura. Non c'è la pentola per l'investitura per l'investitura. Non c'è la pentola. Sotto Sant'Antonico è stato fatto a limano. Sotto Sant'Antonico è stato fatto a limano. E' bello questa sera, e lo abbiamo anche il costo. Sant'Antonico è stato fatto a limano. Cosa ci vuole mettere? Mettercelo il costo. E lo mettiamo stasera? Sotto Sant'Antonico è stato fatto a limano. Stasera lo mettiamo. Poi mi hai avuto il cuore di 500 metri. Ciccio? No. Ciccio? E poi che ci si capano. Lo mettiamo stasera con delle cose. Che ci si capano. Ah, è un artigianale. Sì. Ho capito, ho capito, ho capito. Sempre sulla mia miglia fa verde. Ah, è bellissimo. Ah, ma come se le stavano tu? Ciccio che mi avete detto, Perché mi ha detto questa volta. Eh, non riuscite la sua mano, Si, mi avete detto. Evo visto questa volta. Figa, Marco. Ah, dopo di là. Dobbiamo portare il tavolo pure. Dobbiamo portare il tavolo. Si, buttiamo fuori il frigorifero. Eh si. Mettiamoli qui in ferro a cucina. Sto preparando per trovarli con la cappella del giuro. E se non ci avesse. Non c'è il giuro? E non c'è il giuro? C'è il giuro? Non c'è il giuro. Non c'è il giuro, ma... A me è se la portare i giù, non portare i giù. Non c'è il giuro. Non c'è il giuro. ma poco ceco che risulta risultato da qualsiasi ma bene è vero la barma è vero la barma non ci sono mai noi ci sono non ci sono mai mai non ci sono non ci sono La signora può aiutare a me, non? Lei ho messo un rumore. Fesso parlare? Eh. Ah, che provo la freba! Ti, che provo la freba? Sì. Ah, che fa passare la freba, dai? No! Ma va? Non ho? Non mi è volvito passare a lei, ma la te è domani? Eh? Eh? Non mi è volvito passare a lei. Sono l'abbiamo. No, siamo passati. Devo! Devo! Sì! 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 Mi ha visto passato! A dire che ero morto! E la cosa? Sì! Sì! La spumia fa una bella fotografia! E le tene rose! Eh! Sì! 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 Guarda! Che? 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 Che! Che? Tu? Che? Che! e via caldo fighe la, dove? bello su via caldo eh, si, si e proprio che vuoi scondire le ragioni nella legna grazie